I'm off my car E' stata creata da Xenia credo Allora senza collisioni Perché c'era scritto level hard Quindi facciamolo in tranquillità Se no Ci mettiamo gli anni Ah devo rifare Quella gara col drift Che l'ho fatta tanto tempo fa Sì sì Ma la proviamo un giorno Allora cosa dobbiamo fare Cosa Che è esploso Mirko si è esploso io raga No a zero salt è crashato poverino Allora più concentrati Più concentrati raga Super mega concentrati E già qui stiamo facendo i guai Sì ma io Scusate Ho problemi a guidare oggi Ok No è che La scrangetta è molto sensibile Con i tossetti Ma chi Ah ok ok Stava a dire ma che è successo Di solito Cioè ultimamente Stanno a capitare bug Non strani Di più Super mega strani No non mi dico Ha messo la cosa glitchata Per favore Per favore no Andiamo Andiamo Oh ricordi sui Grandissimo Neapolitan boy Ma Sui se vedrai questo video Io c'avevo un altro Iscritto Che si chiamava Neapolitan boy Sei sempre tu Chi è Un freno Ah raga Bisogna colpirlo bene Questo freno raga Allora Che ce l'avevo Su PS4 Non so se è lo stesso Non ho idea Allora Ok Forse è buono No troppo bassi Eh sì Troppo bassi Allora Cori Cori Bella come ce l'ha moddata Raga Però l'unica Disgrazia Che non abbiamo Miniature Niente niente Da sotto Da sotto Oh mio dio Raga Immaginate Ce la facevo da sotto Perfect No Non è perfect Sì 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 Ho mollato il turbo Raga Non so se ho fatto bene Mamma mia Tu sta al check Dov'è 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 Chi è il primero Black Tiger Dove scappi Black Tiger Non scappare Per favore Rimani Rimani qua vicino a me Dove sei Eccolo Eccolo Ci facciamo compagnia Allora Disegno indica Che dobbiamo andare Retromarcia Marcia indietro Vabbè Retromarcia Marcia indietro Nient'altro Ah c'è un check Eh però Dobbiamo scendere bene Allora È tutto automatico Ah sì Dove Ah qui No Se prendevo Il ricaricatore di turbo Entravamo là dentro E credo che bisogna entrare lì Aspettate No 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 Ho sbagliato Ho sbagliato Alla grande stavolta C'è pure il turbo Cosa strana Forse ci dà la mano A metterci bene Non lo so Eh troppo alti Troppo alti Saluta Dario E Sergio Dove sta Dario Sta qui Dario E Sergio Lo salutiamo Lo salutiamo Allora Ti sta la D Non sta in gara Ok Dai Non ci riesco Riga Dobbiamo entrare bene Chi è che arriva Cabri 18 Eeeh Non si può dare ricaricare Non si può fare nada Qui Non si può fare Nada De nada De nada Perché ha messo Il container Ehi ehi Oh Riga Ci ho provato Li saluta Dark Demon Dammi Pietro Pio Li salutiamo Li salutiamo Niente Che vedevo di Come dobbiamo prendere Quel turbo Che non lo so Tutti qua Ok Tutti con lo stesso problema Eh che diamine Ok Meno male che ha messo Per il container Però Non me prendeva Quei ricaricatori Black Come hai fatto Come hai fatto Dimmi i trucchi Black Come hai fatto A prendere subito Quel bel turbo Dove sei Dove stai Ma qualcun altro pure Ce l'ha fatta Con lo stesso metodo No Gabri Allora Ci dobbiamo rigirare E' lui E' lui E' lui Ok Oh Si Un cambio C'è La situation No 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 Cambio con turbo Vabbè Ce l'abbiamo fatta Lo stesso Non è consigliabile Fare un cambio Walleride Con il turbo Attivo Proprio no Di nuovo cambio Di nuovo cambio Eh la miseria La carità Si fa interessante Molto interessante Ehi ehi E mo Ah giù c'è il fake check Meno male che mette le indicazioni Questo creatore Meno male Raga Turbo Devo saltare No Ok Allora Non attiviamo niente Raga Niente di niente Ok Super mega delicati Con questa scramjet Pericolosa Raga Molto Ma molto Pericolosa Spirale Che devo fare Mi devo rigirare Dove fare qualcosa Non ha finito Ok Abbiamo un bel check Questa si che è una buona notizia E qui Ah là dentro Ah c'è un ricaricatore Senti che lo prendiamo Ok No stavolta è messo meglio Il ricaricatore E dopo Di qua Possibile Ah no È tipo come prima Che bisogna fare il giro Da dietro Cosa strana Scelta Leggermente strana Da parte del Cariador Allora Ce l'ha scritto Challenge 25 minuti Vediamo se ce la facciamo Eccolo Check Allora Ok Pure i fari Verdi Ci ha messo Turbo Turbo Sui Dove devo passare Qua dentro Sì Turbo 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 Sui Che Io di stretti Ammesso Io di stretti La prima volta Li becco In una gara Con la scrumjet Regà Ce la faccio così Sì Però meglio Senza turbo Regà Perché siamo entrati Col turbo Ed è Stra difficile Allora Carina Saluta Nersera Perché Mi ha arrivato Doppio Doppio Messaggio Senti Ok Nersera ZZ Da lori Meno male Che c'è Il turbo Nella scrumjet Che ci siamo salvati Regà Ah no Disettiamo il turbo Se non ci abbiamo Abbastanza Turbo Ok C'era uno qui Meno male Che ha messi I ricaricatori Meno male Regà Allora E dopodiché Spirali Oh no Vedo cose difficili Ho visto che bisogna Centrare tipo Una cosetta Minuscola Da lontano Regà Che è Che è Qui Ah Oh mio dio Oh mio dio Qui Oh mio dio Ancora Ok Ci siamo Eh Quello mi preoccupa Ho visto Da lontano Ti prego Ti prego Ti prego Alla primera Non ci voglio credere Regà Non ci voglio credere Oggi è una buona giornata Che è oggi Primo marzo Primo marzo Del 2023 Ottimo No vediamo L'anno prossimo Se è il primo marzo Del 2024 Avrò la stessa fortuna Mi registro 365 gare In quel giorno Almeno c'è un video Al giorno Per un anno intero Con la stessa fortuna Di quel giorno Regà Allora Se registro 365 gare In un giorno Regà Non è che mi sparisce La voce di più Sì però vedo che già Già la fortuna Sta svanendo Questa cosa Non è positiva No eccola Eccola Ritornata Ritornata Oddio Quella parte La primera Regà Non lo so Non lo so Non mi chiedete Niente Eh no Non c'ho Il turbo Ah Peccato Peccato E Ah si riparte Da qua Ok Fatto Meno male che abbiamo Sbagliato una parte Così facile Che abbiamo attivato Il turbo Male E non ce l'avevo Nella posizione giusta Il turbo No Ah C'era un ricaricatore Però io non l'ho preso Quei ricaricatore Raga Quanti c'è che sono Finita Praticamente Alla Ehi Ehi Sì Dobbiamo prendere Ma dove l'ho messo Sto ricaricatore Ok Un po' al limite Raga Allora Andiamo Cori Cori Bello veloce Bello rapido Su Ok Poi c'è una Spita Il traguardo Poi Speriamo che non ha messo Un'altra cosetta Tipo come quella Di prima Che dovevamo passare Allora Ah no 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 Semplice Semplice Questo traguardo Che non prenderemo Un po' più alti Sì fuochi d'artificio De chi Mi sono trollato No Bisogna fare 30.000 km Allora Vabbè ma il turbo Ce l'ho stavolta Che a me frega De Attivare Quella disposizione Non mi chiedete niente Da qui posso attivare Che avrà messo Ricaricatore Rino Non vedo Ricaricatore Rino di turbo Ah eccolo L'ha messa al limite Quindi spawna dopo Ok Più alti Più alti Dobbiamo andare alla fine Cori 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 Il turbo ce lo lasciamo Era meglio attivare No Era meglio attivare Doppio turbo Ma che ce la facciamo Ma ce la facciamo Entriamo pure Dentro il cerchietto Ma forse a bordo Il cerchietto Ma sti cavoli Abbiamo concluso Comunque sia Se vi è piaciuta Questa carerita Con la scrumjet Lasciate un bel vi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Ciao